Concludiamo con il Vice Presidente Luca Gerini. Definirlo soltanto Vice Presidente è certamente diminutivo. È un trascinatore, un uomo vulcanico, insomma una persona indispensabile al Borgo Rapallo. Ascoltiamolo. E siamo con Luca Gerini che è il Vice Presidente del Borgo Rapallo. Tanto cominciamo a capire da quanti anni è impegnato in questa società. Guarda, allora, io è tre anni che siamo entrato in questa società. Prima avevo la Juniores, poi abbiamo unito... Come mister? No, sempre come dirigente, abbiamo unito le forze e abbiamo fatto, tra virgolette, una squadra unica. È un bel impegno, è una bella avventura. Crediamo in tutto quello che facciamo. Siamo tutti coesi in un solo obiettivo che non si dice mai, Franco. Non si dice mai. Speriamo quest'anno di, tra virgolette, arrivare ai play-off. E poi una lotteria. Siamo qui, siamo su questo campo qua per merito di tutte le persone che ci sono vicine. Tutti gli sponsor, tutti gli aiuti. Io come Vice Presidente voglio ringraziare tutte le persone che ci danno una mano anche con una minima cosa. Perché per me, per noi è importante. Dal più grande al più piccolo. Un ringraziamento particolare va a un nostro caro amico che è un contadino di Cogorno. Comunque l'obiettivo è quello. Bene, quindi ringraziamenti agli sponsor che sono fondamentali. E i rapporti con il Borgo Rapallo, con la città di Rapallo? Allora, sono molto buoni. Non ti nascondo che siamo una società piccola, ma con delle grandi ambizioni. Potremmo scalare, come si suol dire, la classifica di gradimento della città di Rapallo e magari un domani diventare la prima squadra di Rapallo. Perché il Borgo Rapallo ha grandi progetti e grandi ambizioni. Bene. Pubblico? Pubblico, come si suol dire, delle grandi occasioni. Ci vengono a vedere. Abbiamo dei tifosi affezionati che sono anni che ci seguono. Anche per questo abbiamo una squadra, comunque, forse non so se è stato fatto presidente, abbiamo tutti i ragazzi di Rapallo. Questo è fondamentale. Questo è molto fondamentale e vogliamo puntare su quello. Quindi il Borgo avrà lunga vita, finché ci saremo io, una persona che in questi anni lavoriamo non bene, ma benissimo, che è il Presidente, Luca Bregoli, che lo devo ringraziare di avermi fatto entrare in questa avventura e speriamo in grandi risultati, Franco. Speriamo di festeggiare a maggio una bella promozione. Benissimo, grazie. Grazie a te, Franco.